Montano le polemiche rispetto al reintegro anticipato del personale medico sanitario e amministrativo nelle rispettive strutture sanitarie. Montano la polemica su un fatto che non ha senso perché si trattava appunto di anticipare di qualche settimana il reintegro perché la norma era chiara. A meno che qualcuno non volesse procrastinare ulteriormente questa sospensione, questa messa al bando di chi ha osato non chinare il capo. Ecco allora si mischiano tante cose, si mischia per esempio magari la volontà di fargliela pagare a coloro che sani oggi devono rimanere a bordo campo, devono rimanere in una specie di ghetto, in una specie di confino culturale, professionale perché non hanno accettato quello che gli altri hanno accettato perché c'era la norma, non perché fosse giusto oppure no, no perché c'era una norma che gli obbligava e quindi qualcuno non ha abbassato il capo e quindi per questo perché si è dimostrato un rompicoglioni deve essere punito ancora. Allora sento parlare di adesivi, di spillette, di ulteriore etichettamento perché la gente deve sapere, cioè il cittadino deve sapere se il medico che lo prenderà in cura nel recente passato era un medico no vax, un medico che non si è vaccinato. Ecco, questa cosa rientra sempre nella ghettizzazione, nella discriminazione di cui era intrisa la normativa precedente e la stagione precedente. Poi ci sono quelli che dicono, allora se voi non vi mettete la spilletta con su scritto io non mi sono vaccinato, allora facciamo così, ce la mettiamo noi, una bella spilla grande per dire io mi sono vaccinato, come a dire io sono la scienza, io sono la medicina, io sono colui che vi dà le garanzie. Magari sarebbe anche meglio avere un asterisco su scritto sì ma sono sempre io quello che per esempio è finanziato dalle grandi multinazionali del farmaco, sono sempre io da avere dei conflitti di interesse. No, questo il cittadino non lo deve sapere, deve invece sapere che il medico Pinco, Pallino, Tizio o Caio si è vaccinato, si è vaccinato quindi è più bravo degli altri, è più medico degli altri. Allora non vorrei che qui un altro cortocircuito fosse del tipo, cari signori io non mi sono vaccinato, a dispetto di quello che dicevate voi, sono rientrato in corsia, sono sano, non mi sono vaccinato, non mi sono ammalato e non mi sono finito in terapia intensiva e soprattutto non sono morto, a dispetto di quello che voi dicevate. Cioè io sono la prova vivente che la vostra narrazione era una narrazione fallace. Io rientro in corsia e posso testimoniare quello che mi è accaduto e lo faccio da medico. Quindi hanno paura della testimonianza di quei medici che non si sono vaccinati, avevano posto delle critiche rispetto al vaccino su cui poi era partita la campagna di vaccinazione obbligatoria e oggi possono dire la loro, la possono dire rispetto in termini, ripeto, in termini scientifici. Perché loro sono la prova vivente che la narrazione dei colleghi col camice bianco era una narrazione fallace, era una, era parte di una propaganda. Ecco perché li vogliono tenere fuori dal contatto con le persone, perché non vogliono che costoro, che ripeto non si erano vaccinati, possano raccontare, possano testimoniare, possano dire che cosa è successo a loro. Perché questo fa parte, questo caratterizza la medicina. La medicina è il match, il confronto di punti di vista, di tesi, di studi e di esperienza. Ecco il confronto che manca oggi, evidentemente hanno paura, è il confronto delle esperienze, è il confronto delle tesi. Ecco perché non vogliono reintegrare pienamente queste persone. Ed ecco perché secondo me sbaglia il ministro della salute quando dice ma io delego ai dirigenti sanitari. Dove li vorranno mettere? A me sta bene. No, perché se dobbiamo poi assistere ad un'ulteriore discriminazione, perché li reintegri, ma poi li metti, che ne so, a pulire i bagni, lo dico per esagerare, e allora è un'ulteriore ghettizzazione. Allora invece deve dire il reintegro è effettivo, tornano nel luogo di lavoro con le mansioni di prima e se ci arrivano delle segnalazioni di ulteriori discriminazioni io mando gli ispettori. Questo deve fare e deve dire il ministro e soprattutto ci deve dire che cosa intendano fare rispetto alle multe, alle sanzioni per chi over 50 non si è vaccinato. Aspettiamo vere serie risposte.